Ciao a tutti amici e amiche, sono sempre io, MelPiccioNelBrightMoon e oggi vi recensirò Princess Twilight Sparkle Explore Equestria Allora, qua c'è il logo dei My Little Pony e con qua tutta una striscia di cutie marche delle main six poi qua c'è scritto Posable Articulé, cioè che lì si possono muovere gli arti che si può muovere appunto poi qua c'è un artwork o un disegno, come lo chiamate, non lo so di Princess Twilight, poi qua c'è appunto il nome e qua c'è la scritta, c'è il logo della Hasbro poi qua appunto c'è la scritta Explore Equestria e qua c'è scritto che non si può dare ai bambini più piccoli di tre anni se no ingoiano tipo o questo o qualcos'altro poi qua ci sono tutti i ghirigori colorati poi lì ti dice tutto e tutto in pratica di stare attenti insomma in tutte le lingue possibili che esistono poi poi qua c'è il disegno di come dovrebbe essere il pony uscito qua ovviamente te lo fanno vedere tutto bello con i boccoli invece no, alla fine ce li allisci in alcuni eh, poi non lo so poi qua appunto c'è, ti spiega il gioco dei My Little Pony che puoi scannerizzare i pony, solo i pony che hanno questo cuoricino qui se no gli altri no poi qua c'è il nome appunto, l'avrò detto 3000 volte comunque Princess Twilight Sparkle e il gioco si può comprare su App Store e Google Play poi ho raggiunto il momento in cui posso scartarlo perché il video avrò fatto 3 milioni di volte e lo giuro perché non riuscivo a dire bene delle frasi quindi passiamo allo scartaggio finalmente questo è Princess Twilight uscita alla scatola cioè non del tutto perché è ancora con la plastica però è bellino cioè c'è i capelli che di rosa è fluo scusate cioè se mi è andata un pochino via voce perché di solito io urlo sembro una matta ma ieri sera sono stata al concerto di Marco Mengoni ho urlato sembravo impazzita da manicomio comunque qua c'è perché è caduto? cioè dal nulla comunque qua c'è un mini tavolino di carta che lo userò per lo sfondo per magari per le altre recensioni se no tanti alla sponda del mio letto sembra è carino però fa un po' schifo è smorto ecco che bello smorto vabbè poi qua c'è un libro e qua c'è Princess Twilight tranquilla e beata comunque leviamola da lì perché poverina se no ci muore lì la nostra Princess Twilight uscita dalla scatola e c'è i capelli molto unti anche se non si vedono ma sembra che gli hanno tirato tipo un litro d'olio in testa comunque poi qua c'è il suo libro strano eh che tu hai letto ovunque va non c'è un libro strano ma vero poi qua c'è la sua bibita ora non so come chiamarla e poi lì c'è il tavolino che in pratica l'ho metà l'ho strappato dal dietro forse mi riesce a prenderlo così perché l'avevano incollato quindi comunque comunque spero che il video vi sia piaciuto se vi va iscrivetevi e commentatemi e lasciate un mi piace e alla prossima ciao ciao